Salve cari amici di Turismo Medico Albania, stiamo andando verso Durazio per prendere e accomodare una coppia marito e moglie, però il marito farà l'intervento tra pianto capelli con il metodo fuè Zafiro, mentre la moglie lo accompagna. La sua zona donatrice era buona e speriamo il meglio. Qui siamo sulla strada principale, autostrada diciamo, ma non è proprio un'autostrada, con dei standard italiani e super strada, mentre la coppia viene con il traghetto, non con l'aereo, tutto compreso, Turismo Medico Albania, vieni a proteggere la della bellezza naturale.